Entro fine maggio la palazzina di pneumologia sarà completamente demolita per far spazio alla nuova pediatria. Per novembre inoltre il piazzale sarà completamente libero e pronto per l'inizio dei lavori. Il bando per la realizzazione del nuovo edificio, aggiornato a 61 milioni di euro, sarà pubblicato entro fine anno, inizio 2020. Ecco la roadmap dettata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor. I lavori di smantellamento della vecchia palazzina di pneumologia sono iniziati subito dopo Pasqua. Recuperati i materiali che possono essere riutilizzati come sistemi di illuminazione, infissi e casse per i ticket. L'edificio verrà poi impacchettato per demolirlo. Durante questa operazione un getto d'acqua lo bagnerà di continuo per evitare la diffusione di polvere. Tutte precauzioni necessarie visto che si trova in un'area ospedaliera. Nel progetto della nuova pediatria è previsto un collegamento con il fabbricato che in futuro andrà a sostituire la divisione ostetrica. Mentre il vecchio stabile, dove attualmente ci sono i reparti per adegenza pediatrica, ospiterà studi di medici, laboratori e aule per studenti e docenti.